Siamo nelle colline di San Costanzo, presso le cantine Bruscia, una famiglia di viticoltori che producono vini da uve biologiche nel rispetto della natura e dell'ambiente. Una vasta gamma di prodotti, quelli della cantina Bruscia, che annovera 19 etichette, tra Bianchello, Sangiovese e Colli Pesaresi, prodotti sia in purezza che in blend, oltre a passiti e distillati che possono soddisfare le esigenze più sofisticate. Ora un'altra etichetta si è aggiunta alla gamma Bruscia, una bollicina brut metodo classico da uve di Bianchello. Si chiama Conte Giulio e nel nome reca un omaggio alla terra che ospita l'azienda, ricordando il Conte Giulio Perticari, fine letterato e difensore del purismo linguistico. Questa etichetta è stata presentata durante l'ultima tappa della staffetta del Bianchello, nelle rinnovate cantine di San Costanzo. Tanta ansia per presentarlo, però oggi finalmente siete arrivati al giorno fatidico. Esatto, ce l'abbiamo fatta, ci siamo tolto un peso non abbastanza enorme, chiaramente, questa presentazione di questo prodotto del tutto nuovo, del suo genere, perché un metodo classico di Bianchello, come dicevo due anni fa, quando ci siamo visti di sotto, nell'inaugurazione della cantina, era un pochino azzardato proporlo. Ecco qua, ci siamo riusciti, un gran prodotto, che la gente piace, chiaramente è un pochino prematuro, perché la sboccatura è precoce, circa un mesetto, dovrebbe aspettare affinarsi ancora in bottiglia qualche mese, per poi chiaramente capire il massimo di questo prodotto. Che dire, sì, ci allarghiamo, come dicevi te, diamo spazio ai nostri clienti di soddisfarli in tutti i generi, capito, dai prodotti base, un Bianchello per banchettistica, vini più importanti come il nostro Lubac, vini autoctoni, il famoso, l'incroso bruni. Ecco la bollicina, questa qua, per ultima, quindi poi diversificando anche nei vini dolci, passiti, visciole e quant'altro, i nostri clienti credo che siano soddisfatti, quando vengono qua in azienda, di poter assaggiare tutti i prodotti del territorio. Quindi faccio un appello ai ristoratori, che in particolare penso che il territorio vada un pochino valorizzato, anche tramite i nostri ristoratori. Grandi ristoratori fanno pesce eccellente, carne eccellente, però li sprono un pochino a usare un pochino di più i nostri prodotti. Per noi facciamo fatica, ad esempio parlo di questa bollicina, per me è un costo esagerato, faccio 2000 bottiglie, te considera che mi sono comprate le bottiglie tre anni fa, un euro l'una circa, ok? Dopodiché l'abbiamo messo in bottiglia, è fermo lì da due anni, coricato, messo nelle pupitre per fare il remouage, ok, chiamato il terzista per fare la sboccatura, l'etichetta che è molto importante anche, capito, vestire la bottiglia del modo giusto, perché molti purtroppo, contrariamente come dovrebbero fare, dovrebbero comprare, capito, assaggiando il prodotto e non soltanto con la semplice vista. Ecco per cui dico ai nostri ristoratori, usiamo i nostri prodotti, è vero, io magari vi viene a costare tanto, cerco, capito, di applicarvi anche un prezzo idoneo per questo prodotto, però cercate di aiutarci in questo modo. Sicuramente arriveranno prodotti di questo tipo, dalla Francia, dal Veneto, dalla Francia corta, capito, a un prezzo molto più basso di quello che lo sto proponendo io, non molto, di qualche euro sicuramente, però io sotto quel prezzo non riesco a scendere, non riesco perché sinceramente significa, fare un buco nell'acqua, è vero, viviamo anche di gloria, ma chiaramente l'azienda per sostenersi, per continuare, deve in qualche modo investire e quindi, capito, c'è un giusto ricambio fra il dare e l'avere. Grazie, grazie di questa vostra presenza e auguro a tutti quelli che mi stanno ascoltando e vedendo un buon brindisi e un buon augurio con questo nuovo prodotto. Allora, un'azienda che vuole rafforzare il suo legame col territorio anche attraverso i nomi da attribuire ai suoi prodotti. Penso che un esempio più virtuoso di questo non ce ne sia. Sì, stiamo davvero raggiungendo delle punte di eccellenza perché festeggiare con uno spumante, che è esattamente quello che ho in mano in questo bel calice, il territorio di San Costanzo con uno spumante il cui nome è Conte Giulio Perticari, credo che sia davvero il massimo per un paese, il massimo della soddisfazione ed il massimo dell'onore. San Costanzo deve tanto dal punto di vista storico al Conte Giulio Perticari, che qui visse ma anche che morì qua a San Costanzo nel nostro bellissimo Palazzo Cassi. Oggi il Conte Giulio viene celebrato e non poteva essere celebrato in altro modo se non che attraverso un fantastico spumante, 100% di Bianchello Doc, naturalmente perché siamo nell'ambito dell'iniziativa della staffetta del Bianchello, un metodo classico premium e vi posso assicurare un ottimo spumante e ancora una volta quindi la conferma dell'eccellenza che San Costanzo sta raggiungendo davvero sotto tutti i punti di vista e perché no anche dal punto di vista della produzione vitivinicola. Come ho accennato poc'anzi durante la presentazione ufficiale, dobbiamo dar atto all'azienda agricola Bruscia di aver legato diversi prodotti della propria produzione vitivinicola a dei personaggi e a zone ben particolari del territorio di San Costanzo che richiamano la nostra storia, la nostra antica storia di San Costanzo. Per quanto riguarda lo spumante dedicato al Conte Giulio Perticari, del quale abbiamo avuto un'anteprima all'inizio di giugno di quest'anno al Teatro della Concordia, l'idea è nata in concomitanza all'organizzazione da parte del Centro Studi Giulio Perticari della giornata nazionale di studi perticariani. In quell'occasione l'azienda agricola Bruscia ha proposto al nostro Centro Studi di dedicare una bottiglia a Giulio Perticari che è uno dei massimi rappresentanti della storia non solo locale di San Costanzo ma anche a livello nazionale letteraria dei primi dell'Ottocento. Quindi il Centro Studi Perticari ha sostenuto con tutte le proprie competenze, dando anche le proprie autorizzazioni, in questo senso tutto il proprio sostegno, soprattutto morale, per questa iniziativa che sicuramente è un'iniziativa che sposa molto bene la tradizione enogastronomica di San Costanzo insieme alla cultura, all'importante storia del nostro paese. Un tempo si parlava di rischio di impresa, qui invece abbiamo un'impresa che rischia, però io credo che senza rischio e quindi senza ogni tanto gettarsi e andare a sperimentare, andare a provare, andare a curiosare, andare a vedere come la va, sia la vera soluzione per superare tutti gli ostacoli che soprattutto in questi ultimi 7-8 anni la crisi ha disteso abbondantemente davanti a tutti coloro che vogliono fare del prodotto e del prodotto di qualità come questa azienda. È un'azienda che ormai ha già più di 15 etichette diverse, ce ne propone una nuova e stanno rischiando anche in questo caso, però chi rischia fa cultura, sempre, chi non rischia dorme e prima o poi si addormenta e gli portano via sia il pesce che la canna secondo me. Oggi ci hanno regalato questa anteprima, l'anteprima di uno spumante che dal 2011 il bianchello può avere nelle sue file, quindi lo spumante metodo classico. Questo è un bianchello spumantizzato benissimo, ovviamente oggi lo sentiremo e non è nemmeno pronto per il mercato, però loro ci hanno voluto fare questo regalo in occasione della staffetta del bianchello. E quindi ecco, quale migliore occasione della staffetta del bianchello per presentare uno dei pochi prodotti, metodi classici di spumante bianchello. Ecco, prima Stefano Bruscia richiamava l'attenzione del ristoratore a utilizzare prodotti che provengono dal suo territorio, dalla sua storia, ma per chi lo conosce il vino e per chi lo deve proporre come voi. Qual è la difficoltà di un vino di questa portata? Sinceramente non c'è difficoltà, serve una grande passione alle spalle. Se noi pensiamo, ovviamente arriviamo con zone vinicole italiane o straniere che hanno una facilità comunicativa molto più ampia, quindi anche il ristoratore fondamentalmente con due parole riesce a vendere il prodotto, mentre invece qui bisogna raccontare un territorio. E' questa l'importanza e diciamo quello che chiediamo noi ai ristoratori, raccontare un territorio. Qui siamo a San Costanzo, un bellissimo posto, uno spumante legato ad un nome, il Conte Giulio, quindi qui di San Costanzo e raccontare questa storia sicuramente regala a chi sarà nostro ospite a cena una bellissima esperienza. Con che cosa si sposa una bollicina di questa portata? Sicuramente questa è una bollicina che può andare bene anche in aperitivo, però ovviamente questa qui la dedicherei a dei piatti anche ben strutturati di pesce, quindi che ne so, tutta una serie di pesci anche al forno oppure dei primi bianchi di pesce, quindi ecco, delle cose ben fatte e strutturate, complesse. Parlando di questo spumante abbiamo due caratteristiche organolettiche, per cui è uno spumante con caratteristiche molto fruttate al naso, con leggere sensazioni di scorza di pane e in bocca invece c'è una bella dolcezza, un attacco morbido e un mezzo bocca interessante, tanto è una bella persistenza, si ritorna a queste donate fruttate e questa scorza di pane e una bella piacevolezza della bolla, sottile, fine, elegante, che ha una bella lunghezza della durata della bolla e buona degustazione. Questo speciale è stato realizzato da conduttori non iscritti all'ordine dei giornalisti.